Ciao ragazzi, finalmente ho finito di leggere Fallen, il primo libro della saga di Fallen, della saga degli angeli, chiamiamola così, di Lauren Kate e non a caso la prima cosa che faccio prima ancora di parlarvi delle mie impressioni del libro è fare questo è levare questa copertina perché penso che sia un modo di vendere un prodotto del tutto falso quindi ragazzi, ricominciamo, ho finito di leggere Fallen, questa è la vera copertina del libro e questa penso sia la unica copertina del libro che ci debba essere perché questo sgorbio qui, questa roba qui non rispecchia minimamente quello che a conti fatti è il libro e di conseguenza il film e dico di conseguenza perché no, cioè no, è sbagliato anche il termine per quale motivo dovrei dire di conseguenza è il film? io ho letto questo libro facendo un grandissimo errore o almeno è l'errore che tutti fanno non avendo letto il libro di Fallen o qualsiasi altro film, qualsiasi altro libro però focalizziamoci su questo perché la critica, il mio essere molto, ma che cavolo ho letto, o più oltre che cavolo ho visto al cinema è riferito a questo, a questa cosa io ho visto il film al cinema e le impressioni ve le ho lasciate nel terreno di un video che vi linko magari da qualche parte qui intorno a me o magari giù in descrizione che faccio prima in cui dicevo che era a conti fatti un bel film anche se il film, come ho più volte detto e poi ho notato che anche altre persone l'hanno detto ma non dopo di me, l'hanno detto in generale perché se ci si fa caso sembra più un investimento facciamo il primo film e vediamo un po' come va a finire e magari ne uscirà qualcosa di buono per i prossimi film cerchiamo di accumulare un po' di denaro, un po' di ricavi alcune scene sono state fatte magari senza dei ritocchi molto professionali molto schizzinosi hanno lasciato un po' molte cose al caso però in linea di massima la trama reggeva bene ma quando io patapunf ho letto questo libro che me l'ha regalato la mia ragazza sapendo che il film folle mi era piaciuto e la ringrazio ancora adesso la cosa che mi aspettavo era di riscontrare la stessa medesima trama all'interno del libro o meglio di riscontrare alcune scene forse qualcuno qui ha già capito dove voglio andare a sparare alcune scene del libro del film all'interno del libro all'interno del film giusto? mi sono garbugliato penso di no scene del film all'interno del libro giusto? no no io questo libro che considero ancora più bello rispetto al film stesso perché il film a confronto del libro è posso dirlo? merda? si può dire su youtube o è parolaccia sai sono gente che bestemmia da mattina e sera su youtube non vi fanno una mazza non vedo per quale motivo io che dico merda riferito al contenuto di un film che non rispecchia minimamente e lo mettiamo intanto qua altrimenti ci devo giocare tutto il video non rispecchia minimamente il contenuto del libro stesso non possa definirlo in questo modo non sono qui per spoilerarvi anche il libro perché altrimenti spoilerare il libro sarebbe una cosa troppo facile sono qui per parlarvi di quello che io ho visto nel libro e di quello che voi già sapete ho visto nel film l'inizio l'input è lo stesso ok lei viene mandata in questo istituto correzionale per quello che ha fatto a Trevor bla 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 riguardatevi prima l'altro video sul film poi arrivate a guardarvi questo perché guardarli incrociati vi assicuro non mi va di fare rimandi troppi rimandi al video che ho già fatto ok l'input è quello lei arriva incontra Penne incontra Daniel incontra Cam incontra Roland incontra Rien e cia 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 quali sono alcune differenze che ho riscontrato le più pesanti le più pesanti innanzitutto le scene perché sembrerà una cosa strana per alcune persone che leggono relativamente poco ma un libro è capace di creare nella tua testa molte più scene di quelle che tu realmente vedeste all'interno di un film succede molto spesso che il libro è sconosciuto il film viene fatto in relazione al libro io guardo il film oh che bello vado a leggere il libro e accade questo cioè il libro contiene tante tante tantissime di quelle cose che nel film non sono mai state menzionate il picnic con Cam per esempio io non mi ricordo averlo visto all'interno del film ed è una scena molto bella raccontata è una bella scena anche se scena uno pensa qualcosa che ho visto ma a fin dei conti uno naviga con l'immaginazione quando legge un libro è quella la base di un libro è una scena fantastica la Lauren Kate l'ha raccontato veramente bene quella scena è bellissima e ci comincia a far capire piccole sfaccettature di Cam che poi verso la fine viene ripreso Cam viene preso anche nel mezzo nel film sembra l'alter ego di Daniel ok sembra sembra è un bel ragazzo Cam ma non ti aspetteresti mai una cosa che c'è nel libro perché non l'hai vista nel film io non sono qui per sperare la parte finale del libro ma Cam è oltre quello che noi abbiamo visto in modo magari carino anche nel film nel film noi lo vediamo svolazzare con delle ali più rosse più demoniache contro Daniel che si scontano a pugni per poi tornare giù cato che non viene raccontata tanto beh questo lo si sapeva già perché il regista l'ha detto è difficile fare un film di un'ora e mezza basandomi su quante sono 430 pagine all'incirca a posto Harry Potter però l'ha fatto ok i primi Harry Potter sono più piccoli rispetto a questo Fallen però oh ragazzi miei è scritto gigantesco sto libro cioè io guarda qua lo cioè sto così lo voglio leggere il libro è scritto gigantesco quindi 430 pagine mi sembra di leggere un libro di testo manco universale liceale tra poco ve lo consiglio scorre veramente rapidamente non è qualcuno mi ha pagato per dirlo scorre veramente in modo rapido il libro a differenza del film che ha delle lacune adesso che ho letto il libro evidentissime dicevo Cam è stato esaltato all'interno del libro molto spesso viene tirato in ballo il bellissimo Cam di cui Luce è invoguita gli piace Cam perché ha quella gentilezza che perché è così gentile Cam lo dice nel libro il perché alla fine vuole baciare Luce lo dice il perché e Daniel te lo spiega il perché mentre ha un dialogo con Cam stesso dice una frase non neanche la posso neanche ripetere riferita al fatto del l'hai baciata per questo motivo ok però la mia idea sul fatto che Luce in questo caso non muore dopo aver baciato Daniel è riferita almeno nel libro cacchio spiega pure qua lo spiega al fatto che lei stavolta non è battezzata quindi il ciclo non si ripete in questo caso abbiamo sempre Miss Sofia infame infamissima ok abbiamo Penn bravissima Penn se dico pace all'anima sua sembra che sto esaltando qualcosa in particolare però Penn è presa molto all'interno del film non che non lo sia anche qui qui è molto più l'amica che si fa in quattro per cercare le informazioni su Daniel che poi trova all'interno di un libro mannaggia perché cacchio non c'è un libro nel film mi sto incavolando di fronte a una webcam però in fin dei conti io questo ho letto e questo vi vengo a dire la scena in cui vanno alla festa questa del film vanno a quel no a festa scusate vanno a quel concerto rock metal non sono esperto di quel genere di musica quindi rock metal non prendovi il culo ci mancherebbe altro è che non so quale sia il tipo Cam e Luce vanno insieme in moto io quella parte nel libro non c'è ce n'è un'altra in cui loro vanno un'altra parte ed è spiegata meglio ed è spiegata meglio lì si vede Cam fare una cosa che normalmente un essere umano non può fare e non è il volare non parlo del volare perché quello cacchi è un angelo caduto a posto il finale è un'altra cosa il finale è un'altra cosa la scena della statua che cade fuori l'università fuori l'università sto pensando l'università fuori ovviamente il cancello d'ingresso la porta d'ingresso di questo istituto non c'è perché ce ne sta un'altra ma è nel cimitero ce ne sta un'altra uguale ma è nel cimitero e non c'entra una mazza quello le ombre gli annunci gli annunziatori perché non mi ricordavo nemmeno come si diceva nello scorso nel video su fall nel film ci stanno Daniel dice che sono delle ombre degli esseri inviati da qualcuno per osservare quindi l'incidente di Devil non fu causato da quelle ombre no? Daniel dice questo non ti dice da chi sono stati inviati nel libro dice sono delle ombre degli esseri che sono stati inviati e vengono mandati per osservare qualcosa nel film dice che sono delle ombre che proiettano praticamente alcune scene del passato di di Lucinda perché verso la fine noi vediamo nel film che si vedono delle immagini cosa loro erano cos'erano cos'erano la scena della scherma che tanto 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 più o meno ho parlato nello scorso video non c'è nel libro non c'è non c'è nel libro tra libro e film non c'è nulla che combacia se non i personaggi e cavolo Ariane Ariane come vogliamo chiamarla nel libro è un personaggio fantastico un'amica di Luz nel film chi se ne frega di Ariane che sta dalla parte di Daniel ci sta Gab Gabbe Gabriele come si chiama Gabriele Gab quella che Luz pensa sia la fidanzata di Daniel ma in realtà non lo è che nel libro fa una cosa fighissima fa una cosa fighissima contro Cam assolutamente da urlo dice cavolo vedi che non sono esseri umani questi cioè sono esseri umani magari deceduti migliaia e migliaia di anni fa ma va bene Luz non dice mai in biblioteca durante una lezione che c'è nel film guardate io non sono battezzata non sono molto dentro agli argomenti religiosi non lo dice nel libro nel libro questo non lo dice nel film si diciamo che il regista ha voluto cercare di prendere qua e là non se sa da dove delle cose da mettere interno del film peccato che non se sa ripeto da dove cavolo le ha prese ci hai fatto una trama ci hai fatto una storia per quanto mannaggia mortacci anzi mortacci dei trailer che ogni volta che ormai uno si riguarda ti spogliono tre quarti dei film io ho fatto i trailer non li ho visti di questo scusate di questo io non ho visto il trailer questo modo di vendermi un libro è finto è falso è una bugia non puoi farlo e cavolo mi devi fare il collegamento con il video che avete visto sulle carte false e mi hanno venduto questo è falso non puoi vendermi un libro che tratta di una cosa con questo perché non c'entra una mazza solamente perché è uscito il film no perché poi ho detto dai ora continuo a leggere i miei libri perché Fallen il libro mi è piaciuto moltissimo è raccontato molto bene ho detto vado a cercarmi come si chiama Torment che è il secondo tra l'altro che non lo trovo non si trova in giro non si sa i Fallen ce ne stanno a quintalate gli Unforgiven ce ne stanno a quintalate e Rapture e Passion forse Torment zero ma vabbè oltre a questo uno va a cercarlo magari anche su internet e su internet si trovano perché ci mancherebbe altro si trovano come niente e succede una cosa non capisco il libro è stato tutti i libri sono stati ristampati adesso nel 2017 perché è uscito il film peccato che il film è uscito solamente di Fallen quindi se io vado a cercare vedete perché ho fatto la scena a inizio in cui spaccavo in cui ho levato la copertina se vado a cercare questo libro lo trovate esempio 20 euro non costa 20 euro costa 16 euro costa 16 euro questo a posto se vuoi andare a cercare è un esempio costamente 16 però costa 16 messo così non così 16 euro mi costa ecco facciamo un esempio più numerico no faccio questo nella vita così mi costa 16 euro così mi costa 14 euro per quale motivo direte voi tutto la stampa poi non è la ristampa la ristampa è quella che voi vedete con la copertina strana lucida mi ricorda molto le carte po' come fa la differenza sta nell'anno di pubblicazione del libro quindi il libro è stato ristampato o meglio hanno preso i liechi libri ci hanno attaccato sopra sto sgorbio qua e te l'hanno venduto di più e di conseguenza il prezzo è lievitato voi direte giusto no perché quando io sono andato a vedere il libro torment su internet mi pareva un libro torment che qui ha un mi pare che così proprio a questa altezza abbiamo un loghetto qui è scritto mi ricordo che c'è scritto vabbè e poi c'è quello di 4 anni fa e poi ci sta quello da adesso che non ha più questo loghetto e costa 3-4 euro in più è giusto secondo voi potrebbe io questo discorso lo posso tollerare anche se poi non lo torno a dire la verità per i libri universitari perché molto spesso vedete libri universitari non per collegarci cioè non c'entra una mazza con folle però a livello di gestione dei prezzi sì voi vedete i libri universitari ripeto che del 2010 che stanno ad un prezzo 20 euro poi lo stesso libro è stato messo due esercizi manco un capitolo due esercizi in più lo ristampano da zero perché non sia mai che mi puoi aggiungere veramente scrivendomili a penna quegli esercizi su un foglio di carta attaccato al libro e te lo fanno pagare invece che 20 25 euro e tu professore infame dici no dovete comprarvi il libro con l'esercizio in più perché ci sta sei costretto a fare questo ok quindi il libro contiene tantissime cose se non avete visto il film beh guardatevi prima il film e poi leggetevi il libro perché fidatevi altrimenti uscite dal cinema veramente tristi e per me poi al cinema voi non ci andate perché se già ho parlato del film e poi ho parlato del libro voi al cinema che ci andate a fare voi il libro che voi leggete a fare io il libro non vi ho detto assolutamente niente se non vi ho fatto capire tramite alcune mini mini descrizioni che ci stanno milioni di scene in più soprattutto sul finale sul finale e poi i modi in cui Daniel cerca di avvicinarsi a Lusinda che non è disegnato su un quaderno cioè ci sta ma non è quella cosa principale in cui Daniel disegna sempre Lusinda su sto cacchio di foglio di carta no si avvicinano vanno al lago non andate insieme e poi Daniel se ne va è raccontato bene nel libro ma il film queste scene ci stanno io non penso che ci siano queste scene a meno che mi sono fatto una dormita nel mentre ma non penso perché il film mi era piaciuto ma mi piace ancora adesso ma non è conforme al libro è giusta questa cosa secondo voi avete riscontato le stesse mancanze all'interno del film per quanto riguarda il contenuto del libro stesso si poteva fare qualcosa in più per ovviare a ciò ricordiamoci da una premessa e poi chiudiamo il video che questo film è stato fatto con un budget più basso rispetto a quello che comunemente voi trovereste su Twilight perché signori miei il libro il film scusate è molto simile a Twilight moltissimo molto 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 simile il libro lo riprende Twilight visto che il paragone viene fatto più comunemente sul web si lo riprende sicuramente si lo riprende ma a mio parere è andato oltre non che è più bello o peggio è andato oltre ma non oltre Twilight oltre quel muro quella piccola recinzione che il web aveva creato fra Fallen e Twilight è andato oltre se ne è andato dicendo io sono un genere a parte parlo di un'altra cosa non parlo di vampiri non parlo di lupi mannari parlo di angeli caduti e parlo di come questi angeli sono arrivati fino ad oggi parlo delle alleanze fra angeli parlo degli anziani perché mi soffia è una degli anziani vabbè raga leggetevi il libro se ne avete letto leggetevelo però prima anzi ma dire prima o dopo non cambia una mazza perché voi leggendo il libro non mi serve a niente le nozioni che ho preso del film non mi serve ho una mazza quindi fate come vi pare che forse è la cosa più giusta alla prossima ragazzi ciao